Con una piccola cerimonia presso il Teatro Auditorium dell'Istituto Vendramini, sono stati presentati i vincitori del concorso musicale Un Testo per Noi, organizzato dal coro Piccole Colonne di Trento. Tra i vincitori figura la classe prima A dell'Istituto Vendramini di Pordenone, che ha scritto il testo della canzone premiata dal titolo Un Ufo a Cena, e che ora, musicata, è diventata una canzone per bambini. All'incontro sono stati illustrati anche tutti i dettagli del Festival della Canzone Europea dei Bambini, l'evento che si svolgerà a marzo in Trentino e che rappresenta il gran finale del concorso Un Testo per Noi, l'assessore comunale Renzo Mazzer. È stato molto bello sentire i bambini che hanno scritto il testo di una canzone, che tra l'altro è stata premiata, e quindi parteciperà a questo Festival della Canzone, che non avrà né vinti né vincitori, perché è un festival per bambini, quindi non ci sono mai vinti vincitori fra bambini. Ma è un testo particolarmente bello, scritto da dei bambini che quando ho iniziato a scriverlo erano nella prima classe, e parlano di un UFO che arriva dallo spazio e che loro accolgono nella loro casa e lo fanno mangiare insieme con loro. Questo è un messaggio molto bello di bambini piccoli che ci insegnano qualche volta anche come sia bella l'accoglienza, come possa cambiare anche la serenità della nostra vita, proprio accogliendo anche chi è diverso da noi. Sarà un bellissimo festival per i bambini che potrà insegnare qualcosa anche ai grandi. Grazie a tutti.